Ben ritrovati dall'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. La firma del decreto al Ministero delle Politiche Agricoli e Forestali ha dato il via ai partenti mercoledì e quindi si continua a correre sulle piste siracusane così come in tutta Italia. Venerdì è il tempo del Sulchi che parte alle 16.20 con ben 7 corse in programma. Si apre subito con il Montepremi più interessante, il premio Totò, 7.700 euro per un miglio che impegna 7 cavalli di due anni. Sono impegnati in una condizionata dove piace la linea tracciata da Gris Daza subito a Siracusa vittoriosa insieme a Coach Mi Boss. Ancora Carlotta Di Gaia e Crosa, Very Nice, che sono arrivati rispettivamente secondi e terzi in una competizione, mentre gli altri non potrebbe essere escluso un miglioramento della forma e della condizione per i lavori mattutini. Ancora sono giovani atleti. Sentiamo allora Francesco Sir, che è il nostro segretario corse, sottolineare appunto i partenti di questo premio Totò e ancora Roberto Favara, responsabile della scuderia Giovanni Marino, che è presente al numero 7 dello schieramento. C'è curiosità nel vedere in azione Cris Daza, vincitrice a sorpresa nella corsa di debutto per i due anni. Si ripresenta stavolta con la guida del suo trener Luciano Messineo e merita il ruolo di favorita. Sta facendo bene con due piazzamenti Carlotta Di Gaia, che mi sembra l'alternativa più plausibile. E poi buona impressione ho ricevuto da Catch Mi Boss, soggetto molto veloce al via, e da Crosa Very Nice, che ha ben debuttato. La sorpresa potrebbe essere con Balto Rabba, che dopo una discreta qualifica non ha convinto al debutto sbagliando, e che sensisce il ritorno in pista di Natale Cintura dopo un lungo appiedamento. La cosa che non mi piace è il numero, il numero 7, a largo di tutti, però la Cavalla al debutto ha fatto un ottimo debutto. È arrivata terza, ma gli ultimi 600 metri di fuori scoperta, veramente contento del suo debutto. Il numero è brutto. In questa corsa c'è Cris Daza, vincente al debutto, Carlotta Di Gaia, seconda anche lei nella corsa di Crosa, e poi metterei questa Cris Cross di Gasparello Verde. La seconda corsa è il premio Proietti, abbinato ad un corner nazionale, sul miglio si va con una categoria, la categoria F, impegnati i cavalli di 5 anni oltre. 11 soggetti al via, piace Union Wise AS, regolare qui a Siracusa, in linea con lui Zig Zag B particolarmente progredito, possono far bene Cintin, chiamato a ripetere la forma dell'ultima vittoria, ancora Simple Red che comunque è positivo, Urania B che ha fatto bene, attenzione anche a Zenofonte e a volo Rivalco P che comunque sembrano di categoria e potrebbero in questo contesto brillare. Sentiamo ancora una volta Roberto Favare, impegnato con la scuderia di Giovanni Marino e con Urania B. Sì, Urania è un bel pezzo che è sempre là sul marcatore a lottare, primi, secondi, terzi, quarti. Il compito è arduo dalla seconda fila, però c'è Natale Cintura Insulchi che rientra dopo tanto tempo ed è sempre una guida natale. Io in questa corsa vedo bene Union Wise AS, vincente al debutto sulla pista, Zenofonte scende un attimo di categoria e se si ricordasse i trascorsi Vaitor scende molte categorie. Premio albanese per la terza corsa, si va sul miglio con una condizionata con cavalli di 4 anni, sono 8 i soggetti al via. Apre il numero 1 di Arco De Greppi che viene appunto da fuori, prova Siracusa per la prima volta, vedremo se si adatterà alla pista siracusana e con quale forma si presenta anche perché ha un buon curriculum, chi si assia smaltito il viaggio. Attenzione ad Aura Rab per una piazza, piace tantissimo il numero 5 di Ace Wise L, superiore ha dimostrato con numerose vittorie di poter essere protagonista qui a Siracusa, dato in progresso il numero 7 di Alonso Griff. E passiamo alla quarta con il premio Zalone, un corner nazionale dove ci sono tanti cavalli che hanno problemi di meccanica, così segnano il loro curriculum, segnano appunto rotture in partenza o all'interno della corsa. Però sicuramente spiccano i soggetti che hanno fatto vedere tanto qui a Siracusa, parliamo di Wilnev Griff, Stefano HP particolarmente irregolare, Wilnev che è entrato male deve dimostrare la forma di inizio anno. Ucci Ucci Play che scende deve dimostrare forma, Zigo che deve riscattare il trofeo che è andato male, il trofeo delle regioni, mentre successivamente aveva scritto belle prestazioni in curriculum. Poi c'è Spirit MN, insomma ci sono tanti cavalli che potrebbero dire la propria. E allora su questa quarta sentiamo Carlo Giordano impegnato con un Tirreno Mail particolarmente stimato e ancora Roberto Favara che è impegnato con la scuderia Gagliardo con il numero 11 Zigo. Il cavallo ha fatto una buona riqualifica, l'altro giorno corre con Di Maio e dopo un paio d'anni che non era in attività corre bene. E ora col proprietario Francesco Liga si spera il meglio, si spera di andare davanti e vedere quello che può fare. Guardando il campo partenti chi salta all'occhio? Nel campo partenti c'è qualche callo buono, c'è Ucci Ucci Play, c'è Winnebio Griff, ma secondo me lui ci può stare nei primi tre. Zigo l'ultima corsa ha corso male che abbiamo riscontrato un problema respiratorio e lo abbiamo curato, però questa non è la corsa sua, stiamo correndo per fare un rientro. Però è consci del fatto che se lui è almeno al 50-60% con questi ci può correre bene. Però come favoriti vedo il numero 1 di Stefano HP, il 3 di Winnebio Griff e il 7 di Spirit & Men. E andiamo alla quinta, una corsa particolarmente aperta, si sviluppa su una distanza più selettiva, 2200 metri, è il premio Crozza, una categoria D con i migliori cavalli di 5 e anni oltre qui a Siracusa. Si punta il dito su Vacanza Jet, di mezzi e di potenzialità, insomma, frequenta altre categorie. Ancora alternative valide Try and Gain, sempre puntuale al palo, per una piazza Zoom LC e Zoom Rock per forma. Utopia Jet non è possibile toglierla anche perché è il reduce poi da vittoria che dimostra buona condizione. Sentiamo Francesco Sirchia cosa ne pensa di questa corsa, peraltro sono i sottoclou con 6.600 euro di Montepremi. Bellissima categoria D, anche se con soli otti partenti, però è una corsa piuttosto equilibrata, anche se questo equilibrio può essere rotto da Vacanza Jet. Molto bene e sfortunata all'ultima quando trova da correre gli ultimi 150 metri e vola per via interna in dirittura d'arrivo. Questa volta in prima fila l'allievo di cintura ha la possibilità di andare davanti, ridurre la corsa a un mio, che è la sua distanza preferita, e mettere l'ipoteca sulla vittoria. Avversari praticamente direi tutti, visto che la distanza del doppio chilometro direi che Try Again è il più pericoloso, ma ci stanno bene anche Zoom LC, Tattoo, la stessa Utopia Jet senza errori. Quindi Vacanza Jet è una base, però per accoppiate trio direi che la corsa si presenta molto aperta. La sesta corsa è il Premio Benigni, anche questo 6.600 euro di Montepremi. Si va sul miglio con una condizionata con cavalli di tre anni, sono 12 i soggetti al via. Premio Benigni, appunto, che apre col numero 1 di Belfagor FI. Non scende dal podio da marzo 2020, quindi regolarissimo. Peraltro ha vinto una corsa con Baby Blue, che si ripresenta in questa competizione. Ha pagato la presenza di Besame e Mucio Font, che resta l'alternativa valida. C'è un'altra linea, quella tracciata da Bellucci Griff e Bloody Mary Ben, che ha fatto bene nelle ultime corse, che potrebbero dirla propria. Attenzione alla Bionda, che proverà ad andare avanti, a riscattare l'ultima, che non è particolarmente piaciuta, magari vuole ritornare a vincere. Sentiamo però il nostro segretario Corse, che ci dà più dettagli sulla competizione. Molto difficile da inquadrare questa condizionata per cavalli di tre anni, in cui veramente almeno la metà dei cavalli al via merita dei consensi. Forse l'ago della bilancia si sposta a favore di Besame e Mucio Font, che comunque dovrà far fronte a una posizione non semplice con l'undici. Questo potrebbe consentire alla veloce e regolare Bionda De Gneris, se andrà davanti, di provare la fuga e difendersi dall'allievo di Lo Verde. Altri cavalli che secondo me hanno chance di far bene sono sicuramente Belfagor Fee, fino adesso sempre nel marcatore, e Reduce da vittoria. Bellucci Griff, sempre chiacchierata e che all'ultima ha fatto vedere qualcosa. Blue Di Mary Bar, che progredisce corsa dopo corsa. E in seconda fila, soprattutto Bantu De Gretpi, che si è presentato bene sul tracciato, anche se sfortunato per un breve agganciamento all'ingresso indietro d'arrivo. E Baby Blue, che è il reddice da piazzamento fuori da Siracusa, con il suo gentleman e proprietario Giuseppe Biondo. La settima corsa, il premio Comici, un corner nazionale sul milio, una reclamare a indigeni di 4 anni ed europei di 4 anni impegnati con un campo partenti frequentato da ben 10 soggetti. La linea, quella di Artemisia Gar, fallosa nel periodo ma di mezzi, con Ion Rab, ultima ancora da dimenticare, potrebbero appunto renderli protagonisti. Ma la vera linea da attendere è quella tracciata da Asam Ferm, che rompe all'arrivo nell'ultima competizione, al Barry Koch, soggetti che frequentano altri tipi di categorie. Le alternative ci sono, Anja Rich, anche essa fallosa nel periodo ma di potenzialità, il numero 4 dello schieramento e le sue chance, anzi ne parliamo con Roberto Favara che è proprio impegnato con il numero 4 dello schieramento. Il cavallo nel periodo è positivo, comincia a migliorare con l'età però qua il compito è troppo difficile. Qua c'è un cavallo declassato al massimo, secondo me il cavallo più netto del giorno è Asaf Ferm, scende molte categorie, passa dai centrali al reclamare. Penso che questo sia il cavallo da battere insieme al Barry Koch e Artemisia Carr, per un sistema più ampio mettiamo alle DEF. Non mi resta che ricordarvi l'appuntamento per venerdì 11 settembre, ora inizio alle ore 16.20, ricordando anche che c'è una prova di qualifica per due anni alle 15.35 e una prova di riqualifica per inserimento in categoria alle 15.50. Arrivederci. Grazie a tutti.